Un'impresa su 5 in Liguria è guidata da una donna. E' il dato emerso dall'ultima analisi di Union Camere Liguria sull'imprenditoria femminile che conta 36.170 aziende in regione a fine 2014 con un peso pari al 22,1% del totale, mezzo punto sopra il valore medio nazionale. E' un fenomeno che sta crescendo soprattutto negli ultimi anni, tanto che in Liguria quasi tre imprese rosa su 5 hanno meno di 15 anni. Il tasso di imprese femminili raggiunge punte molto più elevate rispetto alla media in alcuni specifici settori, quali i servizi alla persona 55,7%, la sanità e l'assistenza sociale 38,3%, le attività agricole 36,4% e la filiera turistica 30,7%. Quasi un'imprenditrice Ligure su 10 parla straniero. Complessivamente sono 3.385, di cui il 73% di nazionalità ex-europea e rappresentano il 2,8% del totale delle imprese femminili straniere in Italia.